Ben a 150 le atlete alla via dell'edizione 2021 del trofeo oro in euro Memorial Elisabetta Coli e Lorena Baldi, gara riservata alla categoria donne elite e ignores al secondo anno organizzata dalla Montignoso Ciclismo. A dare il via alla manifestazione il neoeletto presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, il presidente della Montignoso Ciclismo Mario Ferrari e la presidente della Federazione Ciclistica Italiana Comitato Provinciale di Massa e Carrara Maria Pardini. La prima parte del percorso è filata via alla media di 42 km orari con il gruppo che si è mantenuto compatto nella seconda parte con la doppia scesa alla fortezza visto mantenere alta l'andatura ma nessun tentativo è stato quello determinante. Al suono della campana si avvantaggiano quattro atleti Gaia Masetti e Michela Balducci della Top Girl Fassabortolo, Morgot Vige della Valkar, Anna Trevisi della Ale BTC Ljubljana. Il gruppo concede poco spazio e nel corso della seconda ed ultima ripetizione della salita verso la fortezza il plotone torna compatto. Nel tratto in salita è stata Tatiana Guderzo a fare l'andatura andando a selezionare il gruppo delle migliori che allo scollinamento era formato da una decina di unità. Nel successivo tratto in discesa nella pianura che porta verso il traguardo di Cinquale di Montignoso il gruppo di testa andava a rinforchirsi per giungere sul traguardo con 21 unità. La volata lanciata dalle atlete della Valkar e del gruppo sportivo Fiamme Oro ha portato le migliori sprinter a contendersi il successo. E sul traguardo Rachele Barbieri del gruppo sportivo Fiamme Oro è riuscita ad imporsi nettamente davanti a Vittoria Guazzini della Valkar e Laura Tomasi della Lebiti Silubiana, vincitrice sul traguardo di Cinquale di Montignoso nel 2019. È una squadra bellissima, siamo una vera e propria famiglia qui in Fiamme Oro e quindi sono davvero contenta di aver raggiunto questo primo posto meritatissimo per loro che hanno fatto un grandissimo lavoro. Essere scortata dalle mie compagne, compagne di uno spessore così elevato è bellissimo, è stata una grandissima soddisfazione e vincere mi sembrava al minimo per tutto quello che hanno fatto oggi atlete così importanti.